Sergio Alioni di Trieste è al quinto giorno di digiuno. La sua iniziativa vuole sollecitare l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite affinché entro il 31 marzo voti lo stanziamento di oltre 50 miliardi di lire indispensabili per far funzionare il Tribunale contro i crimini di guerra nella ex Jugoslavia. Sì, questo è un digiuno non violento di dialogo con l'ONU intrapreso da 250 persone nel mondo intero, da 18 paesi. Ci sono molti parlamentari nazionali ed europei che hanno aderito per ottenere il finanziamento per il Tribunale internazionale ad hoc sui crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia. Questo Tribunale è stato costituito l'anno scorso dietro iniziativa del partito radicale con 25 mila firme raccolte in tutto il mondo e presentate a Butros Gali però adesso non ha i soldi per andare avanti e perseguire i criminali. Voglio solo sottolineare che sempre dietro iniziativa del partito radicale questo Tribunale nel suo statuto esclude l'applicazione della pena di morte ai criminali di guerra portare diritto quindi ma non morte. Da chi sarà composto questo Tribunale? Il Tribunale è composto da personalità internazionali a livello del diritto giuristi, ministri della giustizia che sono stati già nominati dall'ONU e quindi sono già insediati e attendono solo la possibilità di poter operare. E quali altre iniziative intendete adottare entro il 31 marzo? Ma noi adesso siamo in questo digiuno che durerà forse fino al 31 marzo cioè finché la Commissione ONU non avrà deciso e poi il 3 aprile ci sarà la marcia di Pasqua a Roma che avrà come obiettivo sollecitare questo finanziamento sollecitare la creazione di un Tribunale permanente sui crimini contro l'umanità che possa giudicare tutti i crimini compresi quelli che sono appena avvenuti per esempio in Somalia nonché richiedere una moratoria universale della pena di morte in attesa di una sua abolizione entro l'anno 2000. Fra l'altro il sindaco di Trieste Riccardo Illi ha garantito la presenza del gonfalone di Trieste a questa marcia di Pasqua di Roma accanto a quello di altre città martiri come Vukovar, Osiek, Zara, Ghernica e così via.